Pronto? Eureka, Billie Jean! Sono Bobby, Bobby Riggs. Senti, ho avuto una grande idea. Porco maschilista contro femminista dalle gambe felose. Senza offesa, sei ancora femminista, sì? Sono una tennista e guarda caso una donna. Non riattaccare! E, a proposito, mi depilo le gambe. È un grande privilegio per i fan del tennis avere con noi la grande Billie Jean King. Giravoce che tu sia una rinnegata. Le donne andrebbero pagate e rispettate in ugual misura. Ammiro quello che state facendo. Il premio maschile è otto volte quello del premio femminile. Gli uomini sono più divertenti da guardare. Questa è biologia. Non dico che le donne non dovrebbero stare in campo. Altrimenti chi raccatterebbe le palle? Oh, mio Dio. Sai che cosa sto facendo? Cosino! Non esiste una sola cosa che non odio di Bobby Riggs. Centomila dollari alla donna che batterà Bobby Riggs. Esiste? E hai il fegato di provarci? Chiama Bobby. Digli che accetto. Allora, Billie Jean, cosa vuoi? Non posso mostrare i miei sentimenti in pubblico. La posta è troppo alta. Affari, sport, in qualunque settore, quelli che contano sono tutti uomini. Se non batto Bobby Riggs me lo rinfaccerà sempre. Andiamo in diretta tra tre. Sarò la migliore. Due. In questo modo potrò. Uno. Cambiare le cose. Quando osiamo desiderare un po' di più, un po' di quello che avete voi, questo non vi va giù. Signore e signori, lo sciovinismo maschilista si fa show. Può parlare quanto vuole. I dinosauri non giocano a tennis. 40 milioni di persone stanno guardando. Ha qualcosa da dire? Io ho finito di parlare. Giochiamo. La battaglia che tutti stavate aspettando di vedere. La battaglia dei sessi.